Magia e società. Riti e sopravvivenze nella tradizione popolare italiana. A cura di Girolamo Mancuso e Franco Scaglia. Ottava trasmissione. Cultura arcaica e civiltà moderna. Un mondo che scompare. In paesi più fortunati il segno del risveglio primaverile della terra sono i mughetti e i garofani rossi. A Cocullo le serpi. I contadini serpari le catturano tra febbraio e aprile appena il primo tepore primaverile le fa uscire dai mucchi di sassi sotto cui han trascorso il letargo invernale e le tengono in otri di pelle o in vasi di terracotta in attesa della festa. Ai primi di maggio ce n'è sempre pronto un buon centinaio di varie dimensioni. I fedeli le traggono alla processione tenendole in mano o appesi al collo a modo di collana o attorcigliate alle braccia. E anche la statua del santo ne è abbondantemente adorna. Ai nostri occhi devo dire quelle serpi non facevano una gran bella figura. Pendevano grosse, flaccide, quasi inerti tanto dal collo di una bella contadina come dal braccio stecchito del santo ridotte in quello stato forse dalla cattività e dalla supernutrizione a cui erano state sottoposte dopo la cattura. Per dirla in breve avevano l'espressione intontita di tutti gli esseri la sera della loro festa. Per cui, mentre all'inizio della processione le guardavamo con rispettosa diffidenza alla fine francamente ci facevano ribrezzo. Dopo la festa domandammo che succede a quelle povere bestiole. Sono vendute, ci dissero, a rappresentanti di case commerciali milanesi. Una serpe di peso medio costa 250 lire. Così è descritta da Ignazio Silone la festa dei serpari di Cocullo. E così finiscono, vendute alle industrie farmaceutiche, quelle serpi alle quali gli antichi abitanti di queste zone, Marsi e Peligni, un tempo tributavano un culto di probabile origine totemica. Nel mondo moderno gli istituti magici tradizionali sono in avanzato stato di disgregazione. Ciò che la Chiesa non era riuscita a ottenere in molti secoli di polemica antimagica con bolle papali e concili, ultimo quello di Trento, è ora ottenuto con facilità, e quasi senza volerlo, dalla moderna civiltà industriale. Il mondo magico è ridotto a un relitto del passato. Le cerimonie e rituali connesse alla fertilità del mondo vegetale e al lavoro dei campi, come notava De Martino, diventano dei giochi come le incanate o il gioco della falce. Ciò è del tutto naturale nella misura in cui l'incertezza esistenziale, che era la matrice di quei riti, è sostituita dal controllo tecnico sulla produzione e sulla natura. L'urbanesimo che spopola le campagne e i nuovi mezzi di comunicazione che spezzano il secolare isolamento di alcune aree marginali e periferiche, accelerano questo processo di disgregazione culturale. Il lamento funebre euro-mediterraneo va rapidamente scomparendo anche dall'Italia meridionale e insulare e si trasforma in canto popolare, ormai senza più relazione con avvenimenti luttuosi reali. Se ancora sopravvive, rimane isolato come fenomeno individuale, non più il rapporto con quella partecipazione collettiva che, secondo Moss, era alla base della magia come istituto culturale. Al pianto rituale si sostituisce il lutto civile delle società urbanizzate, in cui i parenti del defunto qualche volta piangono pure, ma dicono due o tre parole, poi hanno il conforto delle altre persone per bene e si rassegnano, come diceva Ernesto De Martino, una contadina di Valsinni. La società moderna aiuta a dimenticare. Già nel 1959 De Martino constatava lo stato di disgregazione del tarantismo pugliese. Nello stesso anno, il sindaco di Galatina, su parere dell'ufficiale sanitario, ordinava la chiusura del Pozzo dell'Acqua Miracolosa di San Paolo. Ma non era questa ordinanza a decretare la fine del tarantismo. A conclusione di La terra del rimorso, De Martino scriveva Il tarantismo senza dubbio morirà da sé fra poco tempo, ma proprio l'inerzia di quel da sé è malsana e mortale, perché la legge interna della cultura è di procurare la morte del passato attraverso il vivo lume della coscienza e della ragione. Troppe cose nel nostro sud muoiono da sé, senza che la coscienza e la ragione ne tragano alcun merito operativo, e troppe invece sopravvivono senza che la coscienza e la ragione ne avvertano in termini di trasformazione le pungenti contraddizioni. Il tarantismo pagano, il suo innesto nel culto di San Paolo, il disgregarsi dell'esorcismo musicale, il carattere borboso delle manifestazioni in cappella e il limite della interpretazione medica tradizionale si riflettono oggi in un sistema di inerzie, di intolleranze, di contraddizioni inavvertite, di incompatibilità sopportate. In questo caos cui si dà il nome romantico di folklore. Le tradizioni popolari, in cui il mondo magico sopravviveva ormai più come ricordo di un lontano passato, ma pure viveva, seguono lo stesso destino. E se talora persistono, o persino sembrano attraversare un periodo di rivivescenza, ciò è dovuto al fatto che sono diventate una attrazione turistica. Il Toschi, chiedendosi come mai la danza popolare si sia mantenuta viva nell'Italia meridionale, scrive Ciò che scompare, scompare da sé, ma ciò che sopravvive rimane solo se è sostenuto artificialmente o addirittura viene riesumato, come è accaduto per la giostra del Saracino di Arezzo. Nella moderna società industriale, le tradizioni popolari sopravvivono solo se si trasformano esse stesse in industria. In un interessante saggio sulle tradizioni popolari connesse alla festività di Natale, Claude Lévi-Strauss ha messo in evidenza la progressiva commercializzazione di queste tradizioni, specialmente nell'ultimo dopoguerra, sotto l'influsso e l'esempio americano. Così le strene di Natale, sul cui carattere magico-religioso originario si sono soffermati vari autori, hanno perduto il loro significato sacrale e si sono trasformate in una usanza affatto profana sulla quale prospera una florida industria. Così l'antico culto degli alberi e il pino sacro di Attis sopravvivono nell'albero di Natale che in Italia, come in Francia, sta soppiantando il tradizionale presepe. Sulla scia di Rudolf Otto vari studiosi hanno ricondotto l'origine della magia e della religione al concetto del sacro, concetto che comprende in sé questa ambivalenza. Per questo, come osservava De Martino, non vi può essere frattura netta tra magia e religione. Ora, come è stato da più parti rilevato, la società moderna comporta un processo di desacralizzazione della realtà, in cui la dimensione magica sembra destinata a scomparire. Già Renan constatava questo processo apparentemente irreversibile e osservava. Conserviamo la categoria dell'ignoto, la possibilità di sognare. Occorre che la rovina, divenuta inevitabile, delle religioni rivelate, non trascini con sé la scomparsa del sentimento religioso. Le persone religiose vivono di un'ombra. Noi viviamo dell'ombra di un'ombra. Di che cosa si vivrà dopo di noi? Recentemente in Italia, l'Acqua Viva ha pubblicato l'eclissi del sacro nella società industriale, in cui, combinando i dati sociografici e integrandoli con quelli etnografici, storico-religiosi, psicologici e filosofici, giunge alla conclusione molto pessimista che l'umanità è entrata in una lunga notte di cui per quanto scrutiamo nelle tenebre non scorgiamo la fine e che con il procedere delle generazioni si fa sempre più oscura. Scrive De Martino. Eppure non sembra che l'unico sviluppo dell'interrogativo di Renan sia in queste geremiadi di inquieti nostalgici, più o meno pertinentemente armate di dati statistici. Nel complesso, malgrado i suoi aspetti positivi, il movimento di rivalutazione della vita religiosa e del mito negli ultimi 40 anni appare esso stesso coinvolto nella crisi di crescenza che travaglia l'umanesimo occidentale in cammino. Una crisi che si configura come conflitto tra le imprescindibili necessità della maggiore età umanistica è la nostalgia di protezioni tradizionali che assolsero la loro alta funzione pedagogica in un'infanzia non più autenticamente ripristinabile. Per quel che ci sembra, alle scienze religiose spetta oggi una parte non irrilevante nell'aiutare la civiltà occidentale a prendere coscienza del vero carattere della sua crisi e nel restituire alla potenza morale dello scegliere un'attualità armonizzata con la storia passata e con la situazione presente, per entro simboli vibranti di senso e di prospettiva che esprimano l'età umanistica della storia. L'arte popolare e il mondo magico che in essa sopravviveva tende rapidamente a scomparire, a meno che un intervento esterno non ne determini una vita artificiale e puramente esteriore in cui l'elemento magico è irrimediabilmente perduto. Ciò nonostante, la magia continua a sopravvivere nel mondo moderno. Nei tribunali della Germania federale si celebrano in media 70 processi di stregoneria all'anno. Nella piana di Lüneburg il 65% della popolazione crede ancora nelle streghe. Secondo i dati forniti dal Deutsche Medizinische Informationsdienst, ancora qualche anno fa circa 10.000 esorcisti esercitavano il loro ministero. In un rapporto della Herder Correspondenz del 1957 si legge che presso la farmacia municipale di Hamburg-Herburg si poteva acquistare un preparato magico chiamato suffumigi contro l'invidia e come in altre farmacie pubbliche tedesche si vendessero ancora erbe stregonesche che portavano i nomi di sterco del diavolo, polvere di streghe, pietra sanguigna, pidocchi di elefante, lardo di cane e grasso duomo. Questi dati, riportati da Ernesto De Martino, sono stati raccolti da Johan Kruse, direttore dell'archivio per la lotta contro la moderna stregoneria. Scrive il Kruse La situazione in certi Lander era a questo riguardo così preoccupante che secondo un'informazione di Die Welt del 19 maggio 1957 il ministro degli affari sociali della bassa Sassonia, signor Rudolf, aveva affidato nel 1956 a 69 consigli statali di igiene il compito di investigare sul delirio stregonesco della regione col risultato di una raccolta di un centinaio di casi fra cui figuravano persone incolpate di stregoneria che si erano tolte la vita, bambini e adulti morti per aver ingerito preparati di medicastri, famiglie ridotte in miseria per pagare gli esorcisti e i guaritori. In seguito a questo rapporto furono interessate autorità sanitarie, polizia e giustizia per un razionale intervento e fu affidato alla Unione regionale della salute pubblica il compito di condurre villaggio per villaggio una campagna per illuminare i cervelli. La situazione della Germania post-hitleriana era probabilmente eccezionale e non confrontabile con quella italiana. Tuttavia questi dati sono piuttosto sconcertanti. Gli italiani sono probabilmente più smaliziati eppure con un atteggiamento oscillante tra lo scetticismo e la credulità si rivolgono anch'essi quando capita a guaritori, maghi, astrologhi, chiaroveggenti o comunque si vogliano chiamare. In Basilicata, Puglia, Abruzzi secondo un'inchiesta condotta da sociologi padovani e tedeschi il quasi 17% delle persone intervistate ha ammesso di avere esercitato personalmente pratiche magiche più del 27% di averle viste esercitare da vicini di casa. In Italia non vi sono stati episodi clamorosi come il processo di Braunschweig ma anche da noi di tanto in tanto le corti giudiziarie devono occuparsi di casi di magia come dimostra questa notizia apparsa recentemente su un quotidiano milanese sotto il titolo non è reato esercitare la magia assolto il sindaco di Montefredane. Avellino, 29 novembre Il sindaco mago di Montefredane Antonio Battista è stato assolto dal pretore dottor Palladino dal reato di esercizio dell'attività di mago perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dal delitto di esercizio abusivo della professione medica perché il fatto non sussiste. Il primo cittadino di Montefredane un comune a pochi chilometri da Avellino è salito spesso agli onori della cronaca poiché è l'unico sindaco al mondo che svolge l'insolita attività di mago. Io, ha dichiarato il Battista mi intendo di filtri d'amore sono migliaia le donne felici per il mio intervento un matrimonio in pericolo un fidanzamento impossibile un malocchio io metto tutto a posto con i miei talismani e i miei fluidi. Questa è la mia attività. Sono stato carabiniere e ora sono sindaco. Sono insomma una persona per bene e conosco quelli che sono i miei diritti e i miei doveri. La magistratura comunque mi ha reso giustizia. Accanto alle forme di magia tradizionali che sopravvivono soprattutto nelle campagne di cui abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni in Italia sono presenti altri rituali magici. È il caso dello spiritismo delle tavole parlanti che pur costituendo un gioco di società ormai al tramonto hanno ancora numerosi adepti. Come ha notato Michel David oggi la moda del paranormale sta cambiando aspetto rivolgendosi piuttosto verso forme importate e di derivazione orientale come lo yoga e lo zen. Lo yoga ha cominciato a diffondersi in Italia solo dopo il 1960 ma già nel 1963 secondo un settimanale milanese esistevano circa 30.000 yogini. In realtà lo yoga non è una forma di magia ma come è già accaduto per molte filosofie o religioni orientali esso è stato spesso interpretato in tal senso. Del resto le dottrine orientali erano già state ampiamente sfruttate dallo spiritismo e dall'occultismo e prima ancora dall'alchimia e da tutta la magia tradizionale. Accanto e in concorrenza con queste mode che cercano di far rivivere la dimensione magica e che in fondo si risolvono in fenomeni abbastanza innocui ritroviamo però una riviviscenza e si tratta di un fenomeno molto più recente di alcune forme di demonismo che talora assumono aspetti assai meno innocui. Sembra però che in Italia la diffusione di questa moda non abbia assunto le forme e le dimensioni preoccupanti di altri paesi. Il demonismo è nato dallo scontro della magia tradizionale con il cristianesimo ma il suo significato va al di là di questo fatto contingente. A questo proposito scrive Levi Strauss In queste riviviscenze esistono antichissimi elementi mescolati e rimescolati con la successiva aggiunta di formulazioni inedite che perpetuano trasformano o rivivificano usanze antiche. Tuttavia le spiegazioni in base alla sopravvivenza sono sempre incomplete. I costumi infatti non scompaiono né sopravvivono senza motivo. Quando sussistono ne è causa non tanto la viscosità storica quanto la permanenza di una funzione che l'analisi presente deve permettere di svelare. Quale funzione ha dunque la sopravvivenza di credenze e di rituali magici nel mondo moderno? Lo chiediamo ad Alessandro Ancona. Il mondo moderno è decisamente orientato a una extraversione sistematica per la quale tutte le disponibilità umane vengono portate nell'azione esteriorizzata e nell'interesse per il mondo circostante. Rimane quindi uno scarsissimo margine per le operazioni della interiorizzazione e della elaborazione mentale in profondità. Proprio a causa di questa estroversione massiva che per il pregio che in apparenza riveste non è contraddetto ad alcuno sforzo razionale l'uomo avverte inconsciamente il bisogno di un'evasione fantastico e questa è offerta in un modo impareggiabile dalla sopravvivenza di rituali magici. il rituale magico il quale può assumere il valore di un sintomo psicopatologico dimostra infatti come tale la intensità del cosiddetto guadagno secondario dei sintomi e cioè la soddisfazione latente che si trova in esso. È evidente che insieme al rituale magico anche la credenza religiosa può entrare a far parte della dinamica psichica a modo di evasione strutturando quindi una aderenza alle cerimonie religiose e ai principi di fede a tipo non tanto di vita vissuta quanto di superstizione apportatrice di gratificazioni sul piano emotivo. Un altro aspetto della magia nel mondo moderno che dobbiamo registrare è la più volte notata reviviscenza di rituali e di credenze magiche in connessione con la dittatura nazifascista. Questo vale soprattutto per la Germania hitleriana e tuttavia dobbiamo ricordare che Thomas Mann scrisse nel 1929 il suo noto racconto Mario e il mago pensando proprio all'Italia di Mussolini. Allora esiste un rapporto tra magia e ideologie totalitarie? Lo chiediamo a Carlo Tullio Altan. Non vi è un diretto rapporto tra magia e ideologie totalitarie che fra l'altro è un termine estremamente generico che può essere riempito di ogni sorta di contenuti ma piuttosto fra magia e repressione magia e carenza di prospettive razionali di aperture sulla vita adeguate a rispondere ad esigenze umane attualmente non soddisfatte e nemmeno chiare nei loro stessi estremi. Si tratta dell'assurdità di un mondo che sfugge alla comprensione umana che si mostra cioè in contrasto con ciò che esso dovrebbe essere per l'uomo ciò che fa scattare i meccanismi di difesa magica a livello individuale e collettivo è ovvio che i sistemi repressivi che hanno un carattere fortemente conservatore e reazionario si volgono con maggior facilità verso il passato lontano per trovarvi i modelli di una struttura rituale compensatoria e attraverso la quale realizzare una unità irrazionale dei membri che compongono queste società sono ben noti a tutti i motivi mitici del sangue tedesco della razza eletta e sovrana per diritto biologico e i relativi cerimoniari ma del resto anche prima dell'avvento del regime nazista il generale Ludendorff aveva inventato insieme alla moglie una sorta di religione fondata proprio su questi principi questi mezzi e i regimi che se ne servono sono elementi che tendono a sostituire all'impegno critico che è faticoso e rischioso anche se è il solo vero mezzo posseduto dall'uomo per scoprire la via del suo futuro in quanto uomo la fede cieca ma non muta che feticizza e mistifica una realtà piena di contraddizioni a parte queste reviviscenze violente e transitorie in cui il passato sembra ritornare il mondo magico come ha ben spiegato De Martino appartiene a un passato che non può realmente ritornare di fronte all'impetuoso avanzare della civiltà tecnologica il mondo magico sembra destinato al tramonto ne restano solo il ricordo nelle tradizioni folcloriche e reliti isolati quale interpretazione si può dare a questo fenomeno e quali indicazioni se ne possono trarre lo chiediamo a Tullio Seppilli è vero la cosiddetta civiltà tecnologica quella almeno che si è venuta finora costituendo nell'area occidentale del nostro pianeta ha via via ridotto il mondo magico a qualcosa di simile a un relitto a ben vedere nell'area occidentale questa riduzione di credenze pratiche magiche è cominciata assai prima risale forse a quando si verificarono irreversibilmente le scelte storiche che stanno alla base della nostra civiltà attraverso tappe come il costituirsi della filosofia greca la nascita della razionalità rinescimentale sia pur con molte contraddizioni lo sviluppo scientifico ottocentesco e infine appunto l'esplosione tecnologica contemporanea si può dire che in qualche modo la civiltà occidentale si è sviluppata come una continua polemica antimagica e ha finito per produrre in modo sempre più esclusivo e totalitario una concezione e uno stile di vita sostanzialmente incompatibili con i valori gli atteggiamenti e i rapporti con la realtà tipici del mondo magico possiamo quindi concludere che la magia è destinata a scomparire? in queste condizioni il mondo magico è stato relegato e marginalizzato in una sostanziale clandestinità è stato sclerotizzato e si è appunto ridotto a un relitto e tuttavia mai il mondo magico anche nei centri sociali che costituiscono il cuore del nostro sistema è del tutto scomparso anzi si può dire che nel tempo la cività occidentale ha conosciuto frequenti ricorrenti riscoperte del mondo magico e questo mondo che sembrava destinato ad una grottesca agonia si è riproposto in forme varie spesso proprio nei periodi di massimo apparente razionalismo come moda o come fuga come fuga da una realtà nella quale il progresso e la sicurezza venivano continuamente insidiati da vecchie nuove forme di alienazione ora per una corretta interpretazione di questi contraddittori processi e per una individuazione delle loro prospettive future credo sia necessario affrontare chiaramente il problema di enucleare dal mondo magico al di là delle concezioni ideologiche attraverso cui la magia si presenta effettivamente come una visione mistificata della realtà un nucleo di esperienze e di tecniche essenzialmente basate sul dominio di processi psichici e psicosomatici che hanno certamente una loro validità che hanno avuto in altre parti del nostro pianeta una funzione storica di primo piano e che costituiscono un patrimonio che non possiamo gettare via tutto insieme indiscriminatamente e a cuor leggero è possibile in qualche modo un recupero di queste tecniche e attraverso quali forme? ormai in una situazione storica che sta mutando e sta facendo cadere le preclusioni eurocentriche il grado di maturazione della nostra scienza ci permette di affrontare in termini rigorosi l'esame di queste esperienze e di queste tecniche ci consente già di comprenderne sul terreno scientifico e senza alimentare nuove forme di oscurantismo irrazionalistico alcuni meccanismi d'azione credo che in questa direzione sia necessario e possibile lavorare in che misura e in che forme queste tecniche potranno venire poi restituite agli uomini delle società industriali avanzate o esse la loro efficacia e la loro stessa esistenza e possibilità sono legate a stili di vita che appaiono almeno oggi ormai tramontati il loro segreto una volta svelata rimarrà per noi inutile quali processi occorrerebbe si verificassero perché una qualche forma di recupero diventi possibile io credo sia questo in questo campo il tipo di problemi che dobbiamo affrontare il mondo magico tradizionale sembra avviarsi verso un irreversibile declino e le stesse tradizioni popolari in cui esso sopravvive in forma più o meno degradata vanno rapidamente scomparendo a ciò contribuiscono vari fattori dalla diffusione di tecniche sempre più progredite che tendono a ridurre il margine di incertezza in cui trovavano alimento le pratiche magiche all'istruzione obbligatoria generalizzata e ai nuovi mezzi di comunicazione di massa che spezzano l'isolamento secolare di alcune regioni arretrate e che sostituiscono alle tradizioni popolari una cultura di massa uniformemente diffusa in tutti gli strati della popolazione nello stesso tempo questo processo di razionalizzazione dell'intera società comporta un inaridimento della vita spirituale e una unidimensionalità dell'esistenza umana nel 1932 Bergson scriveva non parliamo di un'era della magia alla quale sarebbe succeduta quella della scienza diciamo che scienza e magia sono ugualmente naturali che sono sempre coesistite che la nostra scienza è enormemente più vasta di quella dei nostri lontani antenati ma che questi dovevano essere molto meno magici dei civilizzati di oggi siamo rimasti in fondo ciò che essi erano respinta dalla scienza l'inclinazione alla magia attende la sua ora con questa visione in prospettiva termina la nostra inchiesta le parole di Bergson tentano il recupero della magia come partecipazione più immediata e globale alla vita dei nostri simili e all'intera realtà è molto difficile se non impossibile che questo recupero possa avvenire in tale direzione il mondo magico in quanto concezione della vita è complesso e pieno di contraddizioni che permangono anche nelle varie forme in cui sopravvive non sta a noi comunque trarne delle conclusioni definitive avete ascoltato Magia e società riti e sopravvivenze nella tradizione popolare italiana a cura di Girolamo Mancuso e Franco Scaglia a cura di Girolamo Mancuso iscriviti al canale